Sì, buonasera, grazie a tutti, grazie per essere qui a un'ora che, in certi versi, soprattutto d'inverno, può essere anche scomoda. Io affronterò il problema dei rapporti fra mondo cristiano del mondo musulmano, tenendo presente che il mondo musulmano, per sua natura, è quello dei fedeli dell'Islam. Quanti di questi fedeli dell'Islam siano veramente fedeli, coscienti di quello in cui credono, dicono di credere o credono di credere o fanno finta di credere o vogliono far credere di credere, non lo sappiamo, evidentemente. Questo è un problema che è valido per i cristiani, per gli ebrei, per i buddisti, per gli atei, per gli agnostici, cioè quelli che si rifiutano di prendere in considerazione il fatto religioso, se non come un problema decorosissimo, degnissimo, ma di tipo storico o sociologico, che però non ne riguarda. Quando parlo di Islam io mi riferisco a la massa dei credenti islamici, che sono circa un miliardo e 600 milioni di persone in aumento, sparsi, concentrati, soprattutto tra Asia, centro meridionale occidentale, Africa settentrionale, alcune zone specifiche, precise dell'Europa, ma poi presenti in tutto il mondo perché c'è una grossa diaspora musulmana, giustificata come si giustificano sempre le diaspora, problemi di lavoro, problemi di antichi disagi o di più recenti disagi. La diaspora musulmana si è riversata principalmente sugli Stati Uniti fuori dall'Europa, intendo, in Europa come sapete, ma l'Europa è un mondo molto vicino a quello musulmano. In tempi più o meno recenti una parte dell'Europa, dalla Spagna fino ai Balcani, sono stati quasi per intero, non mai per intero, ma quasi musulmane. Poi c'è naturalmente il grosso fenomeno del centinaia di musulmani che abitano negli Stati Uniti d'America, negli altri paesi del continente americano, in Canada e nell'America meridionale. C'è il problema dell'Islam guardevole che è insediato in Australia, quindi esiste una diaspora musulmana, come dicevo, esiste una diaspora ebraica. Il problema è quello evidentemente delle unità di grandezza. Bisogna parlarne di queste unità di grandezza perché ho constatato che molto spesso c'è molta fumosità al riguardo, ecco, parlando con studenti universitari, cioè con la mia abituale, per loro sfortuna, la mia abituale clientela, a me capita ogni tanto, siccome si parla molto spesso di affrontamento tra cristiani, musulmani ed ebrei, di rapporti reciproci, di nemicizie passate, presenti. E allora è interessante vedere come loro si immaginano un po' anche le unità di grandezza al riguardo. Allora alla domanda, ma quanti cristiani pensate che ci siano nel mondo, cioè in questi 7 miliardi di persone che stanno cominciando ad avviarsi verso gli 8 miliardi, beh, la risposta corretta, a proposito, dando informazioni numeriche, evidentemente arrotonderò, anche perché così chi non avesse le idee abbastanza chiare si ricorda meglio le quantità arrotondate. Diciamo che i cristiani sono in tutto, 2 miliardi circa, in tutto il mondo. Stanno superando questa cifra, ma insomma non sono in avanzata come musulmani, ma anche l'avanzata musulmana che durante il XX secolo ha registrato un incremento notevole e adesso sembra essersi stabilizzata. Allora, posto che i cristiani sono circa 2 miliardi, arrotondiamo, e non sono dati recentissimi, ma abbastanza recenti, sì, di 4-5 anni fa, posto che di questi 2 miliardi, 1 miliardo e 200 milioni si riconosce nella Chiesa Cattolica. E gli altri, naturalmente, sono distribuiti variamente fra le varie chiese ortodosse, orientali, riformate, eccetera. Posto che i musulmani sono 1 miliardo e 600 milioni, quindi messi insieme cristiani e musulmani sono la metà circa della popolazione terrestre, non è poco. Poi naturalmente ci sono altri gruppi religiosi, soprattutto quello molto forte, hinduistico, buddista, poi altri, eccetera, eccetera. La domanda che io di solito pongo a ragazzi che non sempre si sono preparati, se si sono preparati non vale perché rispondono freschi di notizie, invece se li prendo di contropiede gli dico, secondo voi quanti sono gli ebrei? Naturalmente, tenendo presente il continuo parlare che si fa di vari aspetti della questione ebraica, ponendo nella questione ebraica anche tutto quello che riguarda la politica israeliana che è sentita come tale, bisognerebbe distinguere attentamente il mondo ebraico della diaspora, il mondo israeliano, il sionismo degli ebrei israeliani, non è necessario siano tutti sionisti anche se abitano nello Stato di Israele, il sionismo degli ebrei della diaspora, il sionismo di coloro che non sono ebrei e quindi siamo davanti a un movimento evidentemente ideologico, il sionismo è nato nell'Ottocento ed è nato come movimento nazionalista, movimento che cercava una patria per un popolo che non ce l'aveva e che era dislocato in varie parti del mondo e che aveva perduto anche la sua lingua originale, salvo per gli usi cultuali che però erano seguiti solo da una minoranza. Non tutti forse sanno che in Israele si è fatto un lavoro ciclopico nel corso dei settant'anni dalla sua fondazione dal 48 per reinsegnare una lingua che è l'ebraico diciamo classico biblico però rivisto, rimodernato eccetera eccetera, una lingua che nessuno in realtà parlava e che oggi gli israeliani ebrei e non ebrei parlano correntemente, abitualmente e molti anche ebrei che non sono israeliani amano parlare quell'ebraico. Ho detto israeliani che non sono ebrei e forse anche questa espressione non è chiarissima a tutti. Gli israeliani sono circa 8 milioni di persone, di questi 8 milioni circa di persone più di 6 milioni sono a vario titolo, sono comunque ebrei. E che vuol dire? Non solo se sono evidentemente cittadini israeliani, questo è chiaro, ma che sono, che hanno la madre ebrea o che si sono comunque convertiti in questo caso, sono proseliti diciamo così, ma avendo poi sposato delle ebrei avranno figli ebrei. Comunque sono cittadini israeli ebrei, poi ci sono i cittadini israeli che non sono ebrei, anche questo non è chiaro, sono circa 2 milioni di persone che sono tra cristiani e musulmani. Attualmente i cristiani sono piuttosto in difficoltà, quando possono se ne stanno andando, come se ne vanno dai paesi musulmani, così se ne vanno anche da Israele. È una emorragia a cui si cerca di mettere fine, ne ha parlato anche il Papa, ne ha parlato un'autorità israeliana, ne ha parlato un'autorità musulmane, ma è un po' difficile perché i tempi sono quelli che sono, e su questo riassumere i tempi che sono quelli che sono, penso non sia compito di me stasera perché tutti sappiamo più o meno quali sono le difficoltà attuali. Questi 2 milioni di israeliani non ebrei sono in una posizione di cittadini di Israele che però hanno alcune differenziazioni, per esempio non sono obbligati a fare il servizio militare, possono farlo se vogliono, volontariamente, ma non sono obbligati, quindi c'è già un primo elemento di differenziazione all'interno degli israeliani. Gli israeliani non ebrei non vanno confusi con i palestinesi, cioè quelli che abitano nella zona amministrativamente governata a vario livello dalla cosiddetta authority palestinese che si è proclamata unilateralmente stato, ma che non è riconosciuta come stato dalle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite la riconoscono come autorità ammessa all'Assemblea delle Nazioni Unite come osservatrice per il momento. Ovviamente c'è una certa opposizione dello Stato di Israele all'ammissione piena dell'autorità palestinese all'interno delle Nazioni Unite perché la tesi ufficiale di Israele condivisa almeno da uno dei due governi che in questo momento stanno amministrativamente tenendo insieme la compagine palestinese, cioè dal governo della Lega Nazionale Patriottica, insomma quella che noi chiamiamo naturalmente Alfatà che ha come vera capitale Betlemme, ma a volte le capitali fungono alternativamente alla loro condizione, qualche volta la capitale diventa ramalla, qualche volta gerico. E poi c'è la striscia di Gaza che è tenuta, come sapete, da una maggioranza, sono quasi due milioni ormai di gente letteralmente ammassata nella striscia di Gaza e la maggioranza appartiene al partito di Hamas, che è un partito come tutti i palestinesi di musulmani sunniti, ma che però è fortemente sostenuta anche da comunità sciite che non stanno in Israele. In Israele i sciiti sono pochissimi, ma che stanno o in Libano, il cosiddetto partito di Dio, il partito Hezbollah, oppure addirittura in Iran. Questa è una situazione, e lo so benissimo, che prima che se ne parli è poco chiara, quando se ne è parlato in questi termini, cercando anche di dare delle valutazioni, delle informazioni, eccetera, diventa di un caos quasi ingovernabile. Però non è così in fondo. Quelli di voi che sono interessati a capire la situazione com'è, purtroppo i mass media su queste cose ci informano molto poco e molto male. E ci informano in generale dandoci informazioni che non servono a quelli di noi che vogliono capire le cose come stanno. Io credo che, aggiungo sommessamente, mi auguro, che la stragrande maggioranza dei presenti, fra cui ci sono anche dei colleghi insegnanti, eccetera, che può avere naturalmente le sue convenzioni politiche, le sue simpatie, per carità, ci mancherebbe. Viva Dio, bisogna averle, bisogna avere anche qualche volta un po' di visceralismo nel difendere quella che si sente come posizione propria. Certo, non sono partite di calcio, le posizioni devono essere maturate e giustificate, ma è legittimo averle. Però il momento della comprensione, il più obiettivo possibile, quello è un momento importante. Purtroppo in questo senso siamo a poco più dell'anno zero. Vedete, io faccio il professore e sono professore universitario, che vuol dire che mi distingo dai miei colleghi della scuola superiore perché non sono chiamato solo a fare insegnamento, sono chiamato anche a fare ricerca e a insegnare agli altri a fare ricerca. I colleghi della superiore devono spiegare la storia, cioè raccontarla, raccontarla criticamente, ma raccontarla. Io devo portare anche avanti un po' il discorso della costruzione della storia. La storia ha un futuro, non ha soltanto un passato. Il futuro è quello che nasce dal suo studio continuo, dalla sua revisione, dalla sua rilettura continua. Continuamente documenti storici vengono perduti, ma continuamente se ne scoprono degli altri. Si scopre nuovi modi per leggere documenti che pensavamo spremuti fino all'inverosimile, invece ci accorgiamo no, basta un'invenzione anche tecnica minimale, non so, ne cito una banale che tutti gli insegnanti conoscono, la lampada lucera dente, ormai inventata mezzo secolo fa, quindi anche i più anziani la conoscono, che in archivio ci permette di leggere documenti che a prima vista sono quasi del tutto di lavati. Alla luce di questa lampada particolare le scritture quasi impercettibili riemergono e sono leggibili. Ormai la nostra tecnologia ci permette di srotolare i papiri carbonizzati di Pompei, cioè dei pezzi di carbone cilindrici che fino a poco tempo fa venivano tenuti nei musei soltanto per un senso di venerazione, oggi sono ridiventati documenti storici, la storia non finisce mai e bisogna continuamente aggiornarci e questo è difficile. Quando io ai miei ragazzi declino i valori quantitativi di cristiani e di musulmani rispettivamente in 2 miliardi, 1 miliardo e 6 e chiedo a ragazzi che tutti gli anni vanno ad Auschwitz, ragazzi che tutti i giorni in televisione ascoltano anche se non sempre contenti perché insomma i ragazzi non stanno attaccati esattamente a televisore per sentire i telegiornali, ma insomma sentono notizie da Israele, sentono notizie dal mondo nel quale si discute la rinascita e l'antisemitismo, di tutta una quantità di cose e il risultato è che se i cristiani sono 2 milioni e i musulmani sono 2 miliardi, scusate, e i musulmani sono 1 miliardo e 6 milioni, forse gli ebrei sono di meno professore, sì gli ebrei sono di meno, saranno 1 miliardo, ma gli ebrei sono una quarantina di milioni in tutto il mondo, ma sono una quarantina di milioni che intanto vivono in quella parte minimale del mondo nel quale stanno le classi dirigenti, quel 10% del mondo a cui appartiene il 90% delle ricchezze e delle risorse, sono in generale culti, sono in generale ed è vero, è vero quando i politici occidentali, i politici israeliani si rivolgono a noi e ci dicono ma insomma cosa fate quando noi abbiamo difficoltà con gli arabi, simpatizzate con loro, ma se non altro noi siamo occidentali come voi hanno perfettamente ragione, essere occidentali non è un problema di posizione geografica, è un problema politico-culturale, si è occidentali quando si è studiato in università occidentale, si è occidentali quando si pensa in termini occidentali, si pensa sia una visione del mondo che è occidentale, guidata dal principio dell'individualismo e dei diritti dell'uomo, guidata dal principio del primato dell'economia e della tecnologia, altre culture, altrettanto rispettabili, faccio il medievista, figuratevi se non rispetto culture che hanno posizioni diverse da queste, altre culture partano da altri principi e allora si può parlare ancora di culture che non sono occidentali, ma la classe dirigente mondiale può anche portare il Kefie e la Galabia candida dei grandi petrolieri sauditi, ma è una classe dirigente occidentale, di gente che ha fatto l'università in Svizzera o negli Stati Uniti, di gente che gioca in borsa, di gente che si intende alla grande di finanza e di tecnologia, dov'è questo oriente che sembra balzare al proscenio quando li vediamo arrivare in abiti bianchi o col burnus ricamato, a volte quando si vuole pettinare contro pelo un certo uditorio perché si vede che è un pochino che ha voglia di discutere, di polemizzare, si arriva a forme di crudeltà di questo genere, ma mi spiegate che cosa aveva di così non occidentale e cosa aveva di così orientale invece è musulmano, l'ingegner Bin Laden per esempio, due lauree, tutte e due di alto livello tecnologico, una ingegneria e una mi pare in diritto eccetera, una conseguita in Svizzera e l'altra in Canada, grande giocatore di borsa, grande organizzatore politico e quindi che sapeva bene anche come si organizzano le folle e che è un'arte non più occidentale ma nata nel nostro occidente, cosa aveva di così tipicamente musulmano l'ingegner Bin Laden? Due cose fondamentalmente, il turbante e la barba, che non è poco. Un altro che è il turbante della barba è Muhammad Ben Aboul Karim Malissa, che forse molti di voi sentono nominare per la prima volta, che è un personaggio notevolissimo, è il presidente della Lega Mondiale musulmana, recentemente ha visto il Papa, ha parlato con lui, poi, e vi dico una cosa che voi potete controllare perché è ancora in circolazione, ha avuto una bella intervista che gli è stata fatta dalla rivista Confronti, una rivista cattolica, diciamo fra virgolette di sinistra, ma ormai queste cose hanno il valore che hanno, una rivista senza dubbio qualificata e nel mese di febbraio di quest'anno Muhammad Ben Aboul Karim rilascia una rivista in cui parla dell'Islam come religione di pace, dell'Islam come religione aperta a lui personalmente un cittadino saudita, aperta a tutto, al resto delle religioni, anche naturalmente a chi è religioso non è, all'osservazione, ma scusi la reciprocità, noi apriamo nel nostro mondo delle moschee, oddio per la verità lui non fa polemiche e non replica e avrebbe potuto farlo, beh insomma, però tutte le volte che noi musulmani cerchiamo di aprire qualche moschea c'è sempre qualcuno che raccoglie le firme per non farcelo fare, eccetera, eccetera, non lo dice, però l'intervistatore ha buone armi nel dirgli sì ma voi musulmani questa reciprocità non la conoscete e lui risponde con un'argomentazione quasi precisa, avrebbe potuto essere più precisa perché è una persona di grande cultura, non è preciso come avrebbe potuto essere perché è pur sempre cittadino saudita. E allora Ben Karim risponde sì, guardi, se lei va in tutti i paesi musulmani lei troverà delle chiese cristiane come troverà delle sinagoge, il che è vero. Certo, ci sono situazioni in questo momento in cui la vita dei cristiani può essere messa a repentaglio, ma questo dipende dai gruppi fondamentalisti legati al terrorismo che noi musulmani aderenti alla Lega Mondiale condanniamo reciprocamente, il che è vero. Naturalmente Abdul Karim non dice che questi gruppi terroristici magari hanno dei legami e degli appoggi nel suo stesso paese. Abdul Karim è un uomo di rango sceicale, noi occidentali lo diremmo di rango principesco e quindi sa benissimo che nel suo paese, nell'Arabia Saudita, che è un paese che segue l'Islam, ma secondo una tradizione settaria, che è la tradizione cosiddetta wahhabita, che è una tradizione molto rigorosa, i cristiani sono dai wahhabiti visti con minor simpatia di quanto non lo siano dagli altri musulmani. E per gli altri musulmani, lui dice, beh, in Arabia Saudita non si possono costruire chiese, però tenete presente che l'Arabia Saudita, cioè quello che è il risultato delle due regioni arabiche occidentali del Negev e dell'Ijas, una fettina in fondo, fettina benedetta dalla presenza del petrolio, tutto quello che volete. L'Arabia Saudita è una costruzione voluta soprattutto dalla sua maestra britannica dopo la prima guerra mondiale, quando naturalmente c'era la corsa all'accaparrelarsi, l'egemonia sul petrolio e si sapeva bene che i locali avevano questa ricchezza, la possedevano e la la neonata società delle nazioni aveva riconosciuto i loro stati, stati che in gran parte i paesi vincitori della prima guerra mondiale avevano ricreato dal nulla, perché prima lì al posto dei vari stati arabi c'era l'impero ottomano, l'impero sultaniale ottomano e questi stati non c'erano e molti nazionalisti arabi avevano combattuto al fianco di inglesi e di francesi per sconfiggere i turchi, che erano alleati della Germania, nella speranza di poter avere poi stati nazionali liberi. Non è successo proprio così. E questo è uno degli argomenti fondamentali perché è il peccato originale del Novecento. Il peccato originale del Novecento sono le cattive paci di Parigi, Versailles e tutte le altre paci che hanno seminato i semi della Seconda Guerra Mondiale e della crisi vicino orientale. Tutto questo è stato complicato dal problema del petrolio e noi ci troviamo oggi in una situazione molto complessa. Io amerei parlare per le manciate di decine di minuti che mi restano ancora da parlare di queste cose, però mi vedo costretto a fare un po' un salto indietro perché non so, credo, penso, mi auguro che molti di voi abbiano chiari questi problemi o perlomeno sappiano, ne conoscano l'esistenza, ecco, non vadano in giro pensando che insomma c'è lo scontro di civiltà come 25 anni fa se l'era configurato il professor Huntington, anzi, come se l'erano configurati i mass media che leggendo e presentando malissimo il libro Lo scontro di civiltà di Samuel Huntington, che è un libro che io non condivido quasi per nulla, ma che è un libro solido, un libro che si presta a discussione, lo presentavano un po' come una specie di gioco di bussolotti, di gioco al biliardo fra culture destinate fatalmente a scontrarsi fra loro che non si compenetravano mai, quindi veramente come palle da biliardo, ecco, compattissime al loro interno, ben distinte dall'esterno, una palla da biliardo non c'è pericolo che si disperda nell'ambiente, destinata solo a essere respinta o a respingere le altre palle quando entrano in scontro, questo vale per il gioco del biliardo, non vale per la politica, non vale per la sociologia, non vale per l'antropologia, non vale per le religioni, le religioni si incontrano, le religioni non dialogano perché sono degli assoluti, come faccio io a dialogare, io che sono cattolico, a dialogare con un ebreo, con un musulmano a proposito della natura di Dio, loro sostengono che l'unicità di Dio è intoccabile, io sostengo, non perché sono io, ma perché così sono stato allevato e così continuo a credere, spero con un po' di cognizione di causa, io sostengo che la sostanza divina è senza dubbio unica e siamo d'accordo, ma Dio si presenta in tre forme che noi chiamiamo persone e non dimentichiamo che il termine persona in latino significa aspetto, non significa individuo, non sono tre dei diversi, sono una realtà sostanziale unica che si presenta sotto tre differenti aspetti. Questo naturalmente, un ebreo musulmano mi rispondono concordemente, che sì, è una bella immagine filosofica, ma non regge, in realtà i cristiani pensano che c'è un Dio padre, un Dio figlio, quindi il Dio padre figlia, esattamente come gli esseri umani o gli animali, e poi c'è lo Spirito Santo che ha a che vedere con tutti e due, non si capisce bene come, ebrei musulmani, che adesso non si amano granché, ma che in passato, pur avendo i loro problemi e i loro momenti di tensione, si amavano molto di più, ebrei musulmani sono concordi nel pensare che se c'è un credo assolutamente irrazionale, irragionevole, questo è quello cristiano fondato proprio sul principio, non solo della finità, ma anche dell'inquinamento della natura divina di Dio con una natura umana. E questa è una cosa che farà brividire i musulmani e gli ebrei, in generale sono abbastanza gentili da non dircelo, ma teologicamente naturalmente il dialogo non è possibile, non è che io mi posso mettere d'accordo con un ebreo musulmano dicendo vabbè, voi credete che Dio è uno, io credo che Dio è tre, facciamo che Dio è due e non se ne parla più. Non funziona così. le religioni in realtà non dialogano, dialogano le persone religiose e non dialogano sui principi primi perché sui principi primi non si cede. Da una parte c'è una tradizione che è legata a una scrittura, cristiani e musulmani, scusate, ebrei e musulmani sono religioni di legge, la Torah per gli ebrei, poi ci sono anche gli altri libri biblici, ma il fondamento è la legge, la Torah. Il Corano per i musulmani, che non è un libro organizzato come la Bibbia, noi ci troviamo a nostro maggiore agio quando leggiamo la Bibbia, ci sono i libri storici, ci sono i libri profetici, ci sono i libri normativi, che bellezza. Sì, ma non dimentichiamo che la Bibbia è uno dei fondamenti del nostro iter intellettuale millenario come cristiani o anche come es cristiani, perché possiamo anche non essere cristiani individualmente, ma le nostre radici, le nostre basi stanno lì, stanno nella patristica, stanno nella scolastica, ancora prima nell'apologetica. La Bibbia è carne e sangue del nostro modo di pensare, per questo Giovanni Paolo II, tiro fuori quella bellissima immagine, l'ebraismo è intrinseco al cristianesimo. Un cristiano ha difficoltà a pensare all'ebraismo come a una religione veramente estranea, nel senso una religione altra da sé. Dio è quello, i profeti sono quelli, i canoni morali sono più o meno gli stessi. Vale questo per il Corano? Vale anche per il Corano. Il Corano non conosce la Bibbia, non si fonda sulla Bibbia, ma si fonda su una tradizione orale che conosceva la Bibbia. E questa conoscenza orale si ritrova continuamente nel Corano. Questo è il dato obiettivo, per cui il Vangelo che esce dall'Antico Testamento, se avete la pazienza di rileggervi il Vangelo stando attenti alle note, per questo vi dovete procurare un Vangelo cattolico, quello che regalano certe sette protestanti, non vi serve. Parlo di un puro fatto culturale perché non ci sono le note e quindi non c'è un rinvio ai versetti del Vecchio Testamento. Se la guardate in un'edizione cattolica, vedete che il Nuovo Testamento, i quattro Vangeli canonici, ma anche le lettere di San Paolo, ma anche gli Atti degli Apostoli, non si parli dell'Apocalisse, sono un tessuto finissimo di citazioni o di reminiscenze del Vecchio Testamento. Quindi il legame è fortissimo, ma c'è una cosa che unisce ebrei e musulmani e li allontana dai cristiani, oltre alla faccenda della Trinità e di Dio uomo che veramente muore prima di poter risorgere, eccetera, eccetera. E questa cosa è che ebraismo ed islam sono una religione di legge. Dai loro testi si trae una norma di vita. Per i cristiani è diverso perché la norma di vita si trae sicuramente dalla legge religiosa, ma il mondo cristiano non è cresciuto come l'ebraismo, come l'islam, in un certo senso costruendosi costruendosi su se stesso, come vediamo nel vecchio regno di Israele, a partire da Saul, Salomone e Davide, o come vediamo nell'avvento dell'islam così esplosivo nel VII secolo. In un certo senso l'ebraismo e l'islam, nascendo, hanno fatto tabula rasa di quello che c'era prima. Poi hanno recuperato infinitissime cose, ma l'imperia hanno fatto tabula rasa. Cristianesimo no. Gesù parlando col procuratore romano gli dice una cosa fondamentale. Dopo averne dette altre fondamentali, date a Cesare ciò che è di Cesare, anche se Cesare non è un ebreo, anzi è un pagano, ed è impio per giunta. E Gesù dice al procuratore Pilato tu non avresti autorità su di me se non ti fosse stata data dall'alto. Quell'alto è senza dubbio il Dio. Ed è il Dio di Gesù, che è il Dio degli ebrei, che è Dio degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani. Ma nello stesso tempo quella autorità dall'alto al procuratore romano gli è venuta attraverso il governo imperiale. Il riconoscimento dell'origine divina degli stessi governi e degli stessi regni pagani. Questo è un dato fondamentale del cristianesimo. Questa accettazione che poi è passata attraverso l'accettazione del diritto romano e di tutto il resto, che ha fatto del cristianesimo una cosa diversa rispetto alle due religioni sorelle. E c'è un'altra cosa che io vi dico per ultimo, ma che è la cosa fondamentale. Forse però essendo una cosa fondamentale non la si poteva dire a freddo. La religione, esiste una religione ebraica, esiste una religione musulmana, distinte in varie componenti, in varie confessioni. Per esempio nell'Islam ci sono le due grandi confessioni, la sunnita, che è assolutamente la maggioranza. La sciita, gli sciiti sono circa un 10% dei musulmani e sono incentrati tutti fra Iran, Siria e Iraq. Le differenze sono, direi, minime. Inferiori, tutto sommato, alle differenze che potrebbe esserci oggi fra un cattolico e un riformato. Poi dipende dai riformati. Per esempio con i luterani le differenze non sono grandissime. Con gli anglicani o con gli episcopalisti americani è ancora meno. Con i luterani il discorso diventa più difficile. Con certe sette riformate, per esempio, che hanno diritto di cittadinanza solo negli Stati Uniti in America, sono ancora più lontane. Però in linea di massima le religioni poi si suddividono in confessioni, in sette, eccetera. Ma globalmente c'è un fatto, c'è una differenza. Noi usiamo come sinonimo il concetto di religione, cioè il complesso di credenze e diritti che collega coloro che vi si riconoscono e che dà luogo a un certo modo, a una certa visione del mondo. E' una definizione di religione che va bene per noi, va bene per i musulmani, per gli ebrei, per i buddhisti, per gli induisti, per gli sciamanisti, per tutti. La religione è un complesso di riti e di credenze che configura il modo dell'essere umano di porsi davanti a realtà che non sono immediatamente percepibili perché non cadono sotto i cinque sensi. L'idea di Dio, del divino, eccetera, eccetera. Benissimo. Questo concetto di religione ci unisce a tutte le altre religioni. Ma il cristianesimo è qualcosa di più. È qualcosa che quegli altri non hanno. È qualcosa di specifico. Con questo non voglio dire che il cristianesimo sia superiore a nessun altro dal punto di vista antropologico. Sto facendo appunto un puro discorso di tipo antropologico. La religione cristiana non è una legge, anche se all'interno della religione cristiana ci sono delle leggi come si comincia con riconoscere il decalodo di Musè, quindi l'elemento giuridico c'è. E poi ci sono tutte le leggi che sono state elaborate dal cristianesimo attraverso anche il rapporto con l'impero romano che poi si è cristianizzato, eccetera, eccetera. Il cristianesimo è una fede. E le altre non sono fede. Perché per fede non si deve intendere fedeltà, fiducia, credenza. La mia fede cristiana non consiste nel fatto io credo in Dio o che credo che la persona storica di Gesù Cristo sia Dio. La mia fede è quella che a un certo punto, siccome c'erano discussioni e come, è stata specificata dai padri del Concilio di Nicea nel 325 che l'hanno tradotta in un vero e proprio manifesto che noi, in generale, quelli da noi, tra noi che sono non solo credenti ma anche praticanti, noi recitiamo tutte le domeniche alla Messa dopo il Vangelo. Ed è l'attestazione di fede, credo. Credo, credo che non vuol dire io l'opinione, io la vaga idea, io credo che dopo finita questa riunione andremo tutti a dormire o magari qualcuno andrà a bere qualcosa prima di andare a dormire. io credo di essere una brava persona, io credo che domani dovrò viaggiare per un certo numero, no. Credo in latino non significa questo, non significa avere un'opinione o una prospettiva sulla propria, sul proprio presente, sul proprio futuro. Credo vuol dire affidarsi. Io credo in Dio Padre Onnipotente, io mi affido in Dio Padre Onnipotente, a Dio Padre Onnipotente. Perché mi affido a Lui? Perché mi fido di una cosa. Mi fido che quel, che quell'uomo che una notte di venerdì è stato arrestato, cioè giovedì e venerdì, e poi è stato crocifisso ed è morto, dopo tre giorni risorto. E l'hanno visto alcuni. E questa testimonianza l'hanno data ad altri. E vedendola si sono trasmessi anche fisicamente, col tocco delle mani, la loro fiducia nel fatto che quell'uomo era risorto, aveva vinto la morte, aveva vinto i limiti naturali oltre i quali gli esseri umani non possono andare. E per questo era Dio. E c'è una linea ininterrotta di persone che collegano i credenti di oggi ai credenti di quella cosa che è successa ventun secoli fa in Giudea. Si sono parlati, si sono trasmessi la testimonianza, si sono toccati fra loro, si sono trasmessi col loro tocco il tocco delle mani di Cristo. E questo è un fatto irripetibile. Io non dico affatto che questa è una cosa bellissima e le altre religioni non le hanno. So abbastanza di storie delle religioni per sapere quanto sia bellissimo l'Islam, quanto sia bellissimo il Buddismo e tante altre religioni. Non sto parlando di superiorità, sto parlando di una specificità. Per cui la fede è solo la fede musulmana. E chi dice, ma quegli altri saranno di fede ebraica o di fede musulmana? Sbaglia? Perché la fede è una cosa specifica. Per gli altri conta naturalmente l'adesione alla legge. È chiaro che anche loro hanno un legame che li lega a Dio. Questo Dio è un Dio che ha parlato ai loro profeti, ha parlato ad Abramo, ha parlato a Mosè, ha parlato ad Elia, ha parlato a Muhammad. E in questo c'è un elemento di fede, ma la fede è una cosa concreta, collegata alla nostra umanità e alla nostra qualcosa di più dell'umanità, la nostra corporeità, la nostra fisicità. Il cristianesimo è una fede di persone che mangia il corpo e beve il sangue del suo Dio. Che una cosa è detta così, ai non cristiani fa anche un certo effetto vagamente cannibalistico. E questa è una cosa che in generale, salvo le persone molto colte che ci sono, nel mondo ebraico, nel mondo musulmana viene capito a fatica. E dal momento che la capiscono a fatica anche i cristiani della più forte e concreta formazione teologica, capisco che a forzioni la si capisca male al di fuori. Questi contenuti non si negoziano, su questi contenuti è perfino ozioso parlare. Si può parlarne come informazione reciproca, io sono molto interessato alla teologia musulmana e anche alla teologia ebraica, ma mi fermo lì, rispetto e che loro si tengono a loro e io mi tengo la mia, che è esattamente quello che dice il versetto di una sura del Corano. A un certo punto il Corano, dove è Dio che parla, dice in una sura, che io non ricordo più, me l'avevo portata, ma me l'ho dimenticato, dice proprio questo. Sentite, uomini che non siete musulmani, cosa credete? Che se Dio non avesse voluto farci tutti musulmani, tutti cristiani, tutti ebrei, avrebbe avuto difficoltà a farlo? No, a Dio che ha rispettato la nostra libertà. Quindi voi tenetevi la vostra fede, io mi tengo la mia. Salvo naturalmente e volontariamente voler passare da una fede, vedete anche io uso poi la parola fede anche quando non la dovrei usare, da un sistema religioso a un altro. Parliamo di questo. Parliamo telegraficamente di questo. Per l'Islam evidentemente ebraismo e cristianesimo non sono propriamente religioni diverse dall'Islam. Questo è un altro elemento che bisogna cacciarsi in testa perché dovrebbe essere stranoso e non lo è, anche perché, lo riconosco, i media non ci aiutano. Quando Giovanni Paolo II diceva l'ebraismo è intrinseco al cristianesimo, intendeva dire una cosa precisa. Non c'è reciprocità. Il cristianesimo non è intrinseco all'ebraismo. L'ebraismo al cristianesimo? Sì. Cosa faremmo noi senza i patriarchi e senza i profeti? Ci trollerebbe il Nuovo Testamento addosso. L'ebraismo? Toglietegli questo episodio di questo strano maestro, ma anche affascinante, per alcuni un eretico diabolico, per altri un uomo di straordinaria spiritualità. C'è un gruppo, per esempio, molto agguerrito all'interno dell'ebraismo, che sono gli ebrei per Gesù, che sono straordinari e che studiano la figura di Gesù. E la studiano molto bene, ma con un presupposto. Intanto, naturalmente, Gesù non è il figlio di Dio. Gesù è il figlio prediletto nel senso spirituale, non lo è come generazione, come invece dice il credo cristiano. Ma poi gli ebrei per Gesù intendono recuperare appieno Gesù all'ebraismo. E quindi in questo è certo che sono naturalmente dei filocristiani e i cristiani sono naturalmente degli ammiratori degli ebrei per Gesù. Però intendiamoci, non è che gli ebrei per Gesù vogliono accedere all'idea di Gesù figlio di Dio e Dio lui stesso, per carità, vogliono sottolineare la piena ebraicità di Gesù. E voi sapete che su questo c'è tutta una serie di discussioni. Cosa ha veramente detto Gesù? Noi lo sappiamo dal Vangelo. Cosa ci stesse dietro? Ci stiamo discutendo. Quando qualcuno dice, ma questo Gesù dà un insegnamento che era già neoplatonico? Beh, è un materiale di discussione. Quando Gesù dice, ma queste cose, dice certe cose per cui uno storico delle religioni obietta, ma queste cose sono prese pari pari dai vecchi culti dei egiziani. Insomma, pone un problema. Gesù poteva ben conoscere qualche cosa degli egiziani. E allora questo è un problema storico, è un problema antropologico. però, di per sé, resta il fatto che i cristiani non possono fare a meno degli ebrei. Gli ebrei senza Gesù sarebbero stati benissimo, forse sarebbero stati meglio addirittura, visto quello che gli è successo, non per colpa di Gesù, ma per via dei rapporti con i cristiani. Stesso discorso per l'Islam aforziori. L'Islam parla di Gesù e ne parla anche bene. Se voi avete un Corano in casa, mi auguro abbiate, perché tra l'altro è un libro molto bello, difficile, ma spesso non troppo ben tradotto, ma interessante. Se vi leggete la Sura numero 10, Sura Mariam, Sura di Maria, vi trovate davanti a una bellissima figura, è una bellissima freghiera alla Vergine Maria, che per l'Islam è vergine prima, durante e dopo il parto, esattamente come per il cristianesimo. E questo si spiega benissimo. Qualunque storico delle regioni vi dice, ma Maometto era stato profondamente impressionato, soprattutto dai monaci siriani che facevano proselitismo in Arabia, è storicamente così. Quindi i rapporti sono strettissimi. L'Islam non ci sta senza l'ebraismo e senza il cristianesimo. Qualsiasi musulmano colto è preparato, vi dirà una cosa che se la dite poi a un musulmano buonissimo, generosissimo, simpatico, ma meno preparato, quello si irrigiderà, si chiuderà a riccio, per così dire. Ma qualsiasi musulmano vi dice, attenzione, il più grande profeta dell'Islam, che non è il nome di una religione, Islam è una parola araba, che vuol dire disposizione fiduciosa nei confronti di Dio. Io potrei dire sono un musulmano, sono un islamico, in quanto come cattolico mi sento fiduciosamente disposto ad accettare la volontà di Dio. L'Islam è la forma più piena di questo messaggio che Dio ha voluto dare agli uomini. Perché le religioni si dividono in due grandi categorie. Ci sono le religioni che i cristiani chiamano naturali, cioè le religioni a struttura mitica e a carattere immanente, dove alla divinità si arriva attraverso racconti, mitoi in greco, ma ogni mitos ha una spiegazione, ha un kergma, che vuol dire appunto significato. E gli dèi sono sciolti nel mondo, sono forze della natura, sono forze cosmiche. Poi ci sono altre religioni, un secondo gruppo, che non sono le religioni mitico-immanenti, ma che sono le religioni storico-trascendenti. I cristiani dicono, le prime le chiamano le mitico-immanenti, le chiamano naturali, le seconde le chiamano rivelate. E rivelate sono tre sole, l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam. Arriva un certo momento in cui Dio sceglie un momento, sceglie un luogo, sceglie in generale una persona, può essere Abramo, può essere Mosè, può essere Gesù, può essere Muhammad, irrompe nella storia. E questo nelle religioni immanenti non lo fa nessuno. Le religioni immanenti in generale astraggono dalla storia. E invece le religioni che noi di solito chiamiamo abramitiche, perché il primo patriarca è stato Abramo, le religioni abramitiche invece sono infilate nella storia, immerse nella storia. Dio irrompe nella storia e si presenta ad alcuni esseri umani, li sceglie lui e con loro fa un patto. Fa l'antico patto con gli ebrei, fa il nuovo patto con i cristiani e per i musulmani ne fa un altro ancora, un Muhammad. E questo distingue le tre religioni abramitiche da tutte le altre. E quello che Muhammad Ben Abd al-Karim, che è fautore, credo in buona fede, di un Islam irenico, tende a non dire è che l'Islam è sempre stato durissimo con le religioni che non appartenevano alla filiazione abramifica. Non si ha diritto, dopo la rivelazione divina, di continuare ad essere pagani. Perché con la rivelazione divina Dio appunto si è rivelato e ci ha tolto il diritto a illudersi sugli dèi falsi e bugiardi, che vanno distrutti, vanno eliminati dalla faccia della terra, certamente, non fisicamente. In qualche caso può anche succedere così e in qualche caso è anche successo. In generale succede attraverso forme varie di conversione. Nei confronti degli ebrei e dei cristiani invece i musulmani non hanno mai usato la forza nella conversione. Storicamente ci sono stati momenti di forza, di tensione, di violenza, ma ordinariamente c'è stata piuttosto una convivenza. Ed è quello che dice Adol Karim, ma pensate alla Spagna medievale. Cristiani, musulmani ed ebrei vivevano insieme, ognuno aveva le loro chiese, le loro sinagoghe, le loro moschee, eppure il governo era musulmano. Si sarebbero potuti con la forza obbligare cristiani e musulmani ad abbiurare, come nel mondo europeo si faceva. Nel mondo europeo i musulmani non venivano ammessi, entro certi limiti. A Venezia o a Genova c'erano delle moschee, però stavano nel porto, servivano soltanto per i mercanti quando arrivavano e poi se ne andavano. Gli ebrei, sì, insomma, venivano lasciati tranquilli entro certi limiti, ma in aree molto precise e avevano delle restrizioni, no? Certo, un cristiano sotto l'Islam nel mondo, per esempio, medievale stava molto meglio di quanto non stesse un musulmano nel mondo cristiano, senza dubbio. Però poi noi li abbiamo, come dire, superati, noi abbiamo inventato il principio della tolleranza. Il principio della tolleranza è estraneo all'Islam. L'Islam, che si è fortemente occidentalizzato, l'ha imparato da noi, ma il principio della tolleranza è quello secondo il quale tutti hanno il diritto di pregare il Dio che vogliono. Nel mondo musulmano si sa che l'Islam è l'ultima arrivata fra le tre grandi religioni, ebreismo, cristianesimo e Islam. Ma essendo l'ultima arrivata è anche la più perfetta, ha il privilegio dell'ultimo nato, che è sempre quello prediletto dal padre. E quindi cosa fanno musulmani e cristiani? Vogliono continuare a essere musulmani e cristiani, anche dopo aver conosciuto l'Islam, si accomodino. Però sono al-Al-Kitab, gente del libro, e il libro è la Bibbia, il Vangelo. Non conoscono l'Al-Quran, la cosa che si deve leggere, perché è la vera voce di Dio. Se vogliono diventare musulmani fanno un piccolo sforzo e sono accolti come fratelli. Se non vogliono, restano al-Al-Kitab e come tale sono Gimmi? Parola araba che significa protetto, ma significa anche sottomesso. Devono pagare una certa tassa, devono rinunziare a certi diritti civili. Naturalmente nei paesi musulmani dove la legge coranica, la sharia, si deve comporre in generale con codici penali e civili moderni di impronta occidentale, queste cose vengono variamente miscelate, variamente edulcorate, con un quadro, componendo un quadro molto complesso. In Arabia Saudita, per esempio, no. E allora l'Arabia Saudita, essendo la terra santa del profeta, la Qibla, il luogo a cui si rivolgono tutti i musulmani quando fanno la preghiera, perché si prega con la faccia rivolta alla Mecca, Qibla vuol dire direzione, quella terra santa non deve essere toccata da nulla che non sia, che sia musulmano e così, che non sia musulmano e così. Muhammad Ben Abdul Karim dice, beh, in Arabia Saudita siamo obbligati a non accettare il culto pubblico di chiese o di sinagoge, altrove il discorso è diverso e noi sappiamo che altrove il discorso è diverso. E allora noi ci troviamo, tiriamo le somme, vi prendo altri cinque minuti, anche se non dovrei. Tiriamo le somme di tutto questo. Storicamente ci sono stati due modi, e questa è la ragione originaria della chiacchierata che avrei dovuto fare stasera, ora sarei in grado di cominciare a farla, ma penso che nessuno di voi vuole arrivare alle due di notte e quindi io non lo faccio. Ci sono due modi di affrontarsi, che sono proprio quelli che erano specificati. Da una parte il modello, notissimo, specialmente adesso, non si fa altro che parlarne anche perché è il centenario, è l'ottavo centenario dell'incontro, il modello di Francesco D'Assisi che parte un bel giorno di primavera-estate del 19, va alla crociata, va alla crociata, prende il voto di crociato, si fa ricamare la croce sul saio, la crociata è un pellegrinaggio. È un pellegrinaggio che in considerazione di certe situazioni si può fare anche armati, ma niente di più. D'altra parte Francesco, non c'è bisogno di dire, eh ma Francesco era contro la guerra, eh ma Francesco era contro le armi, eh ma Francesco la crociata non l'avrebbe voluta. Francesco non ha mai predicato contro nulla. In particolare Francesco non ha mai predicato contro nulla che fosse frutto di una decisione papale. E poi dovendo andare in Oriente, perché fra l'altro voleva visitare i suoi frati che stavano organizzando dei conventi, per esempio nella città di Acri, oggi Acco in Israele, in quel momento siccome era stata proclamata una crociata, Francesco aveva solo una possibilità, se voleva andare in Oriente, fare il voto di crociata. E noi lo sappiamo come era fatto il voto di crociata. È stato anche stampato perché era pubblicato in pontificali che poi servivano a benedire il crociato che partiva. Il voto di crociata non è un voto militare. Quando lo vedete tradotto in certi film vedete che il soggettista o il regista si è sbagliato con l'ordinazione cavalleresca. Il voto di crociata non ha assolutamente nulla di militare. Quello che parte per la crociata entra nella chiesa vestito di sacco, a piedi nudi, si fa tutta la chiesa a piedi, si inginocchia davanti all'altare, il vescovo gli consegna il bastone e la bisaccia che sono i simboli del pellegrinaggio e lui fa voto di andare a visitare il santo sepolcro di Gesù. Dopodiché esce, questo l'ha fatto anche San Luigi, re di Francia, che di crociata e poverino ne ha fatte anche due, una nel 48 e un'altra nel 70 e nella seconda c'è morto, non in battaglia ma di tifo e non a Gerusalemme ma sulla costa tunisina perché non ha fatto in tempo arrivare a Gerusalemme, ci andava via mare partendo dalla Francia. Ed era stato costretto a fermarsi a Tunisi perché suo fratello, che era il re di Sicilia, voleva approfittare del passaggio di Luigi per accordarsi su certe cose politiche. Quindi la crociata è anche un'operazione politica, militare. Perché ci va Francesco? Beh, intanto ci doveva andare perché ci aveva i suoi frati impegnati lì. Ci va sicuramente anche perché vuole assistere spiritualmente ai crociati, anche se queste le cronache non lo dicono. Però ogni tanto dicono che predicava i crociati. Ed è interessato ai musulmani? Certo, a questo punto si sarebbe dovuto fare un bellissimo discorso e tanto non mi preoccupo di non averlo fatto perché non mi sarebbe bastata tutta l'ora, ma che cosa ne sapeva Francesco dei musulmani? E allora qui si sarebbe dovuto introdurre un discorso che io faccio liofilizzato. Come si conosceva l'Islam nel XIII secolo? Loro lo conosciamo malissimo, ma noi però abbiamo i Corani tradotti, abbiamo la televisione, abbiamo i mass media che ne parlano continuamente. Loro lo conoscevano peggio ancora. E Badathe non era vero e reciproco, perché i musulmani erano nati avendo dei cristiani in casa? I musulmani li conoscevano bene i cristiani, conoscevano i cristiani orientali, non quelli occidentali. E quando hanno conosciuto i cristiani occidentali non gli hanno lasciato una bella impressione, si può anche capire perché. Però c'è una disparità anche in questo. I musulmani i cristiani li conoscono abbastanza bene. E quando al sultano si presenta un signore, anzi un poveraccio, un po' con aspetti anche di forse di squilibrio mentale, un abito rattoppato di colori, fra l'altro sgargianti, perché si sa che Francesco si faceva rattoppare volontariamente il saio con toppe di colore diverso e lo faceva assomigliare a una specie di veste d'arlecchino, una veste giullaresca. E il sultano cosa fa? Il sultano reagisce in piena naturalezza. Gli dicono c'è un uomo di Dio che ti vuole parlare. Perché un uomo di Dio? Perché è un uomo che è vestito di un abito di lana, rozza, non colorata, fornita di cappuccio. E voi direte allora? Lana in arabo si dice suf. Il cappuccio dell'uomo di Dio che si ritira nel deserto per parlare con Dio si chiama per estensione anch'esso suf. Colui che porta l'abito detto suf è un portatore di suf, che in arabo si dice sufi. E voi sapete che i sufi sono confraternite religiose all'interno dell'Islam. C'è una sola fonte musulmana che parla di Francesco e non lo nomina. Perché tutti dicevano ma ci sarebbe andato poi a parlare al sultano. Le cronache francescane ne parlano e ne dicono di tutti i colori. Ha organizzato l'ordalia del fuoco eccetera eccetera. Vabbè. Ma è una storia dei francescani? No. Perché ci sono cronache laiche che parlano in termini un po' più dimessi della stessa visita. E si ricava che effettivamente questo è andato dal campo crociato. Quindi autorizzato dai crociati. i quali probabilmente non gli avevano dato nessuna in carico. Gli avevano detto se puoi andare vai. E lui stava già elaborando un'idea che poi ha messo nella regola del 1221 secondo cui il frate minore quando vuole parlare agli infedeli va. E fra gli infedeli non predica necessariamente. Predica se se la sente. Altrimenti testimonia del Cristo. Come si fa a testimoniare del Cristo? Il Cristo è povero. Il Cristo è umile. Il Cristo è soggetto a tutti. Il Cristo è un bambino che nasce nudo al freddo e tutti lo possono prendere e portare dove vogliono. Il Cristo è un povero condannato a morte. Questo è il Cristo che lui vuole presentare. I crociati lo lasciano andare credo anche con una sorta di non curanza. Francesco non è portatore di un bel niente. Non parla a nome del Papa. Non parla a nome del legato pontificio che guidava alle truppe. Vuole parlare col sultano perché vede nel sultano un fratello. Nei musulmani i fratelli. Per il sultano lui è un sufi. Ha diritto a una piccola eremosina. Ha diritto a due parole affettuose. Un principe musulmano, anche l'attuale re dell'Arabia Saudita, non potrebbe mai esimersi da fare una cosa di questo genere. In Occidente ormai non ci siamo più abituati. I dittatori lo facevano, queste cose, mettersi a parlare con le vecchiette, con le contadine. Ma in generale i leader democratici preferiscono evitarlo. Insomma non è nemmeno troppo chic. Che cosa si sono detti non lo sapremo mai. Però le cronache francescane ci dicono alcune cose. Le cronache occidentali ci dicono alcune cose. Poi c'è una lapide nel cimitero di Al-Karafa che è vicino all'università coranica di Al-Azhar, grande cimitero del Cairo, Cairo è tutto un cimitero del resto, dove c'è il sepolcro del direttore spirituale del sultano che è un noto filosofo e si dice nell'iscrizione era lì insieme al suo signore al Malik al-Kamil, sultano d'Egitto, al tempo della visita del famoso monaco. Si dice proprio così in arabo? O del famoso uomo di Dio si dovrebbe tradurre meglio? Del famoso sufi. Evidentemente questa storia aveva colpito anche i musulmani. Era poco comune? No, in fondo no. Noi diciamo c'erano le crociate nel Medioevo, sì, ma le crociate sono state 7, 8, 9, forse anche di più, ma sono state degli episodi puntiformi. La realtà dei rapporti fra l'Islam e il mondo cristiano era una realtà di commercio, era una realtà di scambi continui, scambi economici, scambi commerciali, scambi culturali. Noi abbiamo ricevuto Aristotele dal greco, tradotto in arabo, e dall'arabo o dall'ebraico, tradotto in latino. Tre secoli prima che i greci ce lo portassero scappando dal Costantinopoli in pieno del Quattrocento. E insieme ad Aristotele abbiamo ricevuto la matematica, la chimica, la fisica, la medicina, soprattutto la medicina. Il canone di Avicenna, filosofo e medico persiano del X secolo, scritto in arabo, tradotto in latino, è rimasto come testo fondamentale della fisiologia umana fino al settecento, traotto in latino naturalmente, nelle nostre università. Figuratevi, c'è una compenetrazione straordinaria fra il mondo cristiano e il mondo musulmano. E nonostante le guerre e il tessuto connettivo di questa commissione è spesso costituito da dotti o da prestatori di moneta ebraici, ebrei. Questa è la realtà che bisogna tenere presente, però questa realtà non significa che poi le conoscenze fossero troppo avanzate, anche perché i musulmani sono resti a tradurre le loro scritture dall'arabo e il risultato è che in Occidente che cosa si sa del mondo musulmano al tempo di Francesco. Cosa poteva sapere Francesco, che era figlio di un mercante, sui musulmani quando stava nella sua assisi? I casi erano due. O aderiva alla credenza popolare, è la credenza popolare sull'Islam, voi la controllate. Vi leggete per esempio la chanson de Roland, una chanson de geste dell'inizio del XII secolo dove sono descritti i musulmani. Sono musulmani spagnoli, perché la chanson de Roland parla delle imprese di Carlo Magno contro i musulmani di Spagna. Ma si parla dei musulmani. I musulmani adorano gli idoli, adorano anche il demonio. I musulmani hanno una trinità costituita dal Dio Apollo, dal profeta Muhammad e da una terza divinità che non è chiara e allora il giullare che ha scritto il componimento poetico l'ha chiamata il terzo che sbaglia, Terva Gans. Niente, una visione totalmente inventata, divertente anche, che presenta cristiani e musulmani che si picchiano sempre e i musulmani come dei pagani satanisti, diciamo così. A queste cose non ci credeva più nessuno. E perché cristiani e musulmani si costecciavano, si incontravano, si sapeva che questa credenza era fasulla. D'altra parte però i romanzi cavallereschi, che non sono le chanson de geste, presentano un Islam diverso e qui il discorso avrebbe dovuto affrontare il Saladino. Il quale Saladino, Salahaddin, Yusuf Ibn Ayyub Salahaddin, un emiro curdo che poi ha fatto carriera e ha diventato il padrone di Damasco e dell'Egitto, è diventato il modello dell'unità araba, ancora oggi, e non è arabo, è un curdo che parlava turco. Il Saladino, noto per la sua generosità, per il suo spirito anche di pietas, di bontà, eccetera, eccetera, c'è tutta un'anedotica, però è anche quello che ha buttato fuori i cristiani, i crociati, da Gerusalemme nel 1187. E allora cosa è successo? Arriva la terza crociata, alla terza crociata i cristiani mandano il loro più valoroso cavaliere, Riccardo Cuor di Leone. Ve lo ricordate Il Leone d'inverno? Quello con Peter O'Toole e, mi pare, non mi ricordo più chi era l'attrice, ma era molto importante, quella che è stata per anni la compagna di Spencer Tracy, Catherine Hebert. Lì c'è un ritratto splendido del giovane Riccardo Cuor di Leone, con una fedeltà storica straordinaria, è fatta dal grande Anthony Hopkins. È un nevrotico, è un uomo crudele, è un uomo ferocissimo, malvagio, profondamente omosessuale fra l'altro, una delle persone meno raccomandabili di tutta la storia. E però, sapete, Riccardo Cuor di Leone, che non a caso era Cuor di Leone, era un uomo di un coraggio straordinario, forse uno psicanalista o uno psicologo potrebbe dire sì, beh, essendo squilibrato poteva essere anche coraggioso, perché come dice giustamente il dottor Freud, la paura è un'ostensione, la fantasia, no? Quando uno ce n'è a poca è perché è squilibrato, può essere anche coraggioso, non lo so. Comunque, Riccardo Cuor di Leone guida la terza crociata, la guida malissimo, fa un sacco di errori, ammazza indiscriminatamente migliaia di prigionieri di guerra, una carneficina, e combatte contro il Saladino. In generale qualche volta vince lui, qualche volta vince quell'altro. Saladino era un uomo straordinario, era un grande diplomatico, era un grande politico, era un uomo di cultura, però dal punto di vista tattico strategico era un comandante mediocre, esattamente come Riccardo Cuor di Leone, che era uno straordinario soldato, coraggiosissimo, ma un mediocre comandante. Ma allora è successo esattamente la stessa cosa che nel 1942 è successa in Inghilterra, parlo del 1942. Nel 1942 le truppe inglesi impegnate sul fronte nordafricano erano comandate dal maresciallo Montgomery, che era un intimo di Casa Reale, ed era gli stessi anche imparentato con la Casa Reale. Era un comandante mediocre, fece un sacco di sbagli. L'opinione pubblica inglese era estremamente imbarazzata. E allora cosa si fece? Si fece un'operazione, senza saperlo forse, analoga a quella che hanno fatto gli europei all'inizio del XIII secolo. Chi aveva battuto più volte il maresciallo Montgomery? il generale Rommel, soldatato, nazistaccio, che aveva fatto carriera soprattutto perché era uno fedelissimo del partito, poi va bene, poi ha anche cambiato bandiera, è stata una vittima della repressione del 20 luglio 1944 dopo l'attentato a Hitler, non è certo che ci avesse partecipato. Comunque un soldato piuttosto mediocre. Ma era sempre meglio di Montgomery. e allora l'opinione pubblica inglese ha fatto esattamente quello che gli europei avevano fatto sette secoli prima di loro. Hanno ingigantito l'immagine guerriera e umana del Saladino perché il Saladino era quello che in qualche modo aveva sconfitto Riccardo Cuor di Leone. Se il grande re d'Inghilterra, il fiore della cavalleria inglese, era stato sconfitto da un musulmano, quel musulmano doveva essere una cosa straordinaria. Anche moralmente, leggete il Saladino di Boccaccio, il Saladino della storia delle tre anella, il fondatore dell'idea di tolleranza. E su questa strada non ci siamo più allontanati dalla glorificazione del Saladino. quando Lessing, quindi siamo nella Germania, settecentesca, scrive la sua opera tragica, il suo dramma non è una tragedia, è un dramma, Nathan Der Weisse, Nathan il saggio, che è il manifesto della tolleranza europea, ripropone la storia, che è una storia antichissima, d'origine indiana, passata attraverso il mondo arabo ed ebraico, arrivata a Bisanzio e poi in Occidente, la storia è dei tre anelli. Un uomo ha tre figli, sta per morire. Ha un anello preziosissimo, naturalmente lo deve lasciare a un figlio e lasciandogli quest'anello gli lascerà gran parte del suo patrimonio, ma soprattutto l'attestato che quello è il figlio prediletto. E lui non lo vuole fare questo. Allora fa fabbricare da un orafo bravissimo due copie esatte, preziose, naturalmente non anelli falsi a livello merceologico, autenticissimi a livello merceologico, ma solo uno di quelli è quello autentico, è quello portato tutta la vita dal padre. Il padre chiama i tre figli separatamente e a ciascuno di loro dà un anello e dice guarda i tuoi due fratelli ne avranno due uguali, attenzione però, quello vero io lo do solo a te, tienilo presente. E cosa fanno i tre figli? Confrontano gli anelli. Evidentemente ciascuno di loro crede, spera di avere quello giusto, quello vero, quello autentico, nello stesso tempo ciascuno di loro lascia la porta aperta al dubbio. E se mio padre avesse preferito un altro? E allora, conclude Lessing, questi anelli sono le tre fedi. Ciascuno di noi ne ha una delle tre, nel mondo euro, asia, euro, aso, africo, afro-mediterraneo e così, cristiani, musulmani ed ebrei. È bene che ciascuno si tenga la sua, ma è bene che impari anche a rispettare un po' quell'altra. Dio potrebbe aver parlato più profondamente ai musulmani o agli ebrei di quanto non abbia fatto ai cristiani. Noi abbiamo fondato nel Medioevo l'ideale della perfezione cavalleresca. E questo è stato il Saladino. C'è un poemetto che sarà edito fra qualche settimana, credo, e che io ho avuto anche la fortuna di poter introdurre, in cui si parla del fatto che il Saladino, dopo aver conquistato Gerusalemme, è interessato a questa dimensione dello spirito cristiano che è la cavalleria. E allora chiede al più illustre dei crociati che aveva preso il frigioniero, che è Ugo Conte di Tiberiade, gli chiede di poter essere armato cavaliere. E Conte Ugo risponde benissimo. E fa al Saladino l'operazione che si fa quando si arma qualcuno cavaliere. Gli offre delle veste, gli offre delle armi. Saladino si veste una dopo l'altra di una tunica bianca, poi di una tunica rossa, poi di scarpe nere. Poi il Ugo di Tiberiade gli allaccia la spada col pomodorato con una particolare cintura, poi gli dà il colpo, la colè, l'addubement, come dicono i francesi, un colpo con la mano aperta fra il collo e la spalla, che è una ferita rituale e che è il vero, diciamo, la consacrazione del cavaliere. Il Saladino come perfetto cavaliere per il mondo medievale, quindi la più cristiana fra le istituzioni, ha avuto un personaggio particolarmente illustre a rappresentarla e questo però non era cristiano. L'illuminismo ha fatto la stessa cosa, la più illuministica fra le virtù, che è la virtù della tolleranza tipicamente occidentale, a un capostipite che è un musulmano, passato dalle storie della crociata al boccaccio, all'essing, eccetera. E allora ci sono naturalmente queste due strade, l'affrontamento, la discussione, il confronto, il riconoscimento delle radici recifroche da una parte, oppure dall'altra lo scontro di civiltà. E come vedete lo scontro di civiltà è poco interessante in generale, non se ne parla granché, non lo si riconosce come un valore intrinseco. In fondo le crociate sono state un periodo importantissimo nella vita della nostra storia, fino al mondo moderno. Eugenio di Savoia combatteva i turchi contro il Settecento e aveva anche lui un brevetto di crociata. I fucilieri imperiali e i cavalieri polacchi che hanno liberato Vienna dall'assedio del 1683 avevano un brevetto di crociata che concedeva loro l'indulgenza perpetua, il diritto a filare dritti in paradiso senza sostare in purgatorio. La crociata arrivava fino allora e dietro c'era tutta una scienza giuridica, economica, finanziaria, un business enorme. Il mondo moderno è pieno della crociata, però la crociata come guerra contro i musulmani non riesce a tradursi in valori riconosciuti. Quando ci riesce, ci riesce sempre attraverso altri mezzi. La poesia, per esempio, la Gerusalemme liberata. È evidente che Torquato Tasso alla fine del Cinquecento parlava di Gerusalemme conquistata nel 1099, ma in realtà pensava alla battaglia di Lepanto. È chiaro che ci sono stati momenti in cui la cristianità e l'Islam si sono affrontati, però nello stesso tempo la coscienza profonda di una affinità, quella non è mai venuta a meno. Il problema, e termino veramente scusandomi per essere stato incivilmente così lungo, il problema è che noi riconsideriamo questi tempi dopo un oiato molto profondo, durato oltre due secoli. In questi due secoli noi occidentali, noi europei, ci siamo convinti di essere i padroni del mondo, in maniera perfettamente giustificata. Lo eravamo, lo siamo largamente ancora. E ci siamo convinti che in fondo le altre culture sarebbero andate a sparire e a essere fagocitate dalla nostra. Ci siamo anche convinti, perché nel frattempo ci eravamo liberati largamente dal cristianesimo, che anche il cristianesimo sarebbe finito. quando io ho cominciato a studiare queste cose 50 anni fa mi dicevano, ma tu ti interessi all'Islam? L'Islam fra vent'anni sarà vivo soltanto perché i turisti che vanno in Egitto avranno bisogno di continuare a fotografare le palme, i cammelli e i minareti. All'Islam non ci crede più nessuno. Guarda un po', si era negli anni del Signore 1960, i capi musulmani di oggi. Il colonnello Nasser, uno dei militari socialisti occidentalizzati, fanno la loro politica. Ormai a che cosa è ridotto l'Islam? Io potrei riflettere su una cosa che non ho ancora capito e termino veramente su questa desolata e forse desolante riflessione. Io sono arrivato in Egitto, la prima volta in vita mia nel 1959, sotto il governo di Nasser, nazionalista, socialista, laico, eccetera, eccetera. Quando nel pomeriggio, in pieno pomeriggio si è sentito, altoparlanti, l'inizio della preghiera pomeridiana, io ero su uno dei molti ponti del Nilo. Dalle macchine sono usciti tutti i guidatori, anche il tassista che mi stava portando in albergo, vestiti inappuntabilmente all'occidentale, con la cravatta, eccetera, eccetera. Hanno preso i loro fazzoletti, allora non usavano i fazzolettini di carta, c'erano ancora i bei fazzoletti di lino da una volta. Li hanno messi in terra per non sporcarsi i pantaloni con la piega e hanno fatto la preghiera in blocco. Il Cairo si è fermato, si era nel Cairo nazionalista e socialista del 1959. Da allora l'Islam è andato, per un verso precipitando e per un altro radicalizzandosi. Oggi nelle città musulmane non si prega più. Un mio amico fra l'altro è membro di una confraternita sufi. Giordana mi dice dei fondamentalisti che lui conosce perché li studia. Io non ho mai visto gente che parla così continuamente di Dio e che prega così poco. L'Islam è religiosamente in crisi, esattamente e per certi versi forse di più ancora è cristianesimo. Sapete, i cristiani hanno questa forte identità, hanno delle chiese, hanno delle realtà normative. I musulmani e gli ebrei no. I musulmani e gli ebrei hanno delle comunità, si riuniscono nelle comunità di preghiera intorno al loro maestro, ma non hanno quell'unità normativa che solo le chiese possono dare. È vero, d'altra parte però, che mentre le comunità ebraiche sono poche, 40 milioni di persone in tutto il mondo e hanno in generale rabbini di alta qualità, di alta cultura, le comunità musulmane sono messe molto peggio. Sono comunità che mettono insieme un miliardo e 600 milioni di persone e gli imam elettivi sono spesso delle ottime e bravissime persone, non sempre sono molto preparati e è abbastanza facile che nell'imamato vi siano delle infiltrazioni fondamentaliste, eccetera, eccetera. Questo rende ancora più difficile la cosa. Queste difficoltà, queste differenze vanno tenute tutte continuamente insieme. Bisogna sempre pensare a tutte queste cose insieme, esattamente come fa il nostro medico quando noi gli raccontiamo tumultuosamente i nostri sintomi e lui deve tirare fuori la sua cartella clinica. Non si può trascurare nulla e molti di questi sintomi sono assolutamente in contraddizione con gli altri. Credo che se siete arrivati qui molto tempo fa con le idee confuse, adesso le avrete confusissime. Grazie. Bene, davvero ringraziamo per la ricchissima e proprio anche capace di ricondurre l'antico al contemporaneo relazione di questa sera. Io avrei un sacco di domande, però data l'ora lascio spazio a voi, tanto io poi lo porto in albergo e riesco a parlargli lo stesso. Quindi vediamo se c'è qualcuno. Io ho tempo fino alle sette e mezzo della mattina, quando ho fatto il treno. Però magari sì, vediamo. Prego, sì. Sempre il primo. No, non l'unico. Buonasera. Io volevo sapere se secondo lei c'è mai stata una sola vera guerra di religione nel corso di tutta la storia, cioè un desiderio da parte di una fazione di affermare che il proprio Dio è quello giusto e non l'altro. E non soltanto guerre economiche o politiche mascherate dietro un paravento di religione, magari fatto solo per sollevare le maste, le persone meno colte o per dargli una parvenza di nobiltà che in realtà non avevano mai avuto. Sì, è abbastanza semplice. Noi in generale siamo un po' accecati, volendo, dai nostri schemi. Schema in generale marxiano che sopravvive, cioè le ragioni delle guerre sono sempre sovrastrutturali strutturali, perché le ragioni vere sono strutturali, cioè socio-economiche, le linee di commercio e la via delle spezie, ieri, il petrolio oggi, eccetera. Oppure visioni di altro genere, fra cui anche quella che veramente c'è il fanatismo, no? Molti per esempio oggi non religiosi sostengono che le religioni in generale, quelle monoteistiche in particolare, sono una rovina perché portano fatalmente alla guerra. Ma io credo di poter dire questo, le guerre, nella misura in cui le guerre sono religiose, salvo in alcuni casi particolari, non sono mai guerre di religione. Noi le guerre di religione le conosciamo. In Francia ci sono state quelle fra cristiani e ugonotti. C'è stata la grande guerra ai 30 anni, che era una guerra senza dubbio fra cattolici e protestanti. Quella era una guerra in cui ci si voleva sterminare a vicenda. E si è tanto fatto che, quando si è fatto la pace di Vesfalia nel 1648, si è deciso che era necessario avere una mutua intercristiano-stoleranzia. La parola tolleranza c'era già, ma comincia di lì a essere così pregnante. Bisogna smetterla con l'ammazzarci per ragioni religiose. Fra 500 e 600 gli cristiani l'hanno fatto. I musulmani l'hanno fatto meno, anche perché la loro divisione fra sciiti e sunniti, a un certo punto, fra 400 e 700, si è incarnata in due blocchi statali. I sunniti erano i turchi che stavano sotto il sultano di Istanbul e gli sciiti erano i persiani che stavano sotto lo Shah e si facevano guerre fra loro. E magari si alleavano anche con i cristiani per farsi la guerra fra loro. Tradizionalmente i francesi stavano con i turchi e gli spagnoli e i germanici stavano con i persiani e si facevano guerre interreligiose curiosamente intrecciate, guerre in particolare fra musulmani e cristiani fatte per distruggersi a vicenda. Io non ne conosco. Studio queste cose a 50 anni e non ne ho mai incontrato. Ho incontrato battaglie in cui la gente si odia e anche le battaglie io le ho incontrate attraverso descrizioni. E lasciamo perdere le descrizioni poetiche, ma sono quelle più pregnanti. Voi leggete la chanson de Roland e ne uscite fuori con questa visione a modo suo limpida, splendente. Ci sono i cristiani che sono tutti belli, azzurro e oro da una parte, e i musulmani che sono brutti, neri e rossi dall'altra. E si picchiano perché gli uni vogliono sovrastare gli altri e gli uni vogliono nella migliore delle ipotesi convertirli, nella peggiore ucciderli. Ma questo è successo pochissimo. Si pare che quando i crociati hanno preso Gerusalemme abbiano fatto una carneficina, hanno ammazzato cristiani, ebbero ammazzato ebrei e musulmani. Non hanno ammazzato i cristiani orientali semplicemente perché il governatore musulmano li aveva fatto uscire perché si immaginava una cosa del genere, altrimenti avrebbero ammazzato anche quelli. Non erano in grado di riconoscerli. Quando un raiz turco ha preso Otranto, nel 1480 ha fatto ammazzare centinaia di cristiani, a quanto sembra. Però l'episodio è molto strano perché le carte che abbiamo ci dicono che siamo nel 1480, c'era in atto una guerra ferocissima in Italia, la cosiddetta guerra dei pazzi, non perché fossero pazzi, ma perché era stata originata dalla congiura dei pazzi a Firenze, una guerra dove fiorentini e veneziani combattevano insieme contro una coalizione tra il Papa e il Re di Napoli. E in quel momento fiorentini e veneziani ne saltavano buscando. E fiorentini e veneziani sono fortemente presenti ed ascoltati a Istanbul. e dopo la presa di Otranto si è dovuto fare la pace fra i cristiani. Cioè si è smesso di fare la guerra in Italia perché i turchi stavano minacciando la cristianità. Erano già arrivati in Puglia, sarebbero dilagati fino a Roma. E questo ha salvato la Firenze di Lorenzo dei Medici e la Venezia del Doge, non mi ricordo chi era, li ha salvati da una coscientissima sconfitta. Il risultato è stato immediatamente dopo uno scambio di doni affettuosissimo tra il sultano da una parte e il signore di Firenze e il Doge di Venezia dall'altra. Il sultano ha addirittura regalato a Lorenzo il Magnifico l'uomo che aveva pugnalato suo fratello e nel Duomo di Firenze, nella Pasqua del 78, che si era rifugiato a Costantinopoli, il sultano l'ha fatto impacchettare e l'ha rimandato a Firenze, dove è stato impiccato. E allora resta il fatto che questa terribile carneficina di Otranto, davanti alla quale qualcuno tira un respiro di sollievo e dice finalmente una prova che quelle erano veramente guerre feroci di religione e che i musulmani sono cattivissimi, si risolve probabilmente in un brutto e sporco affaruccio diplomatico. Affaruccio costato qualche centinaia di morti, ma sempre affaruccio. Davanti a queste cose cosa si fa? Niente. Se ne deduce che in generale le guerre, quando sono guerre cosiddette di religione, non sono guerre fra religioni, sono guerre semmai fra religiosi, fra uomini che sono profondamente religiosi e fanno allora la guerra in una maniera diversa che se non lo fossero. Del resto questo noi lo sappiamo. Il dio degli eserciti, quando si fa la guerra, ancora oggi, è sempre presente perché ci sono i cappellani militari dall'una e dall'altra parte. Dall'una e dall'altra parte si prega a Dio, si prega anche per i nemici, ma soprattutto si prega per la vittoria. E questo appartiene alla struttura antropologica delle fedi religiose, ma guerre di religione combattute in quanto tali semplicemente per odio contro l'altra religione e per volontà di sradicarla. Io nella storia europea ne conosco solo due, quelle fra Cristiano e Gonotti nella Francia alla fine del Cinquecento e la guerra ai Frentanni, fra 1618 e 1648. Le crociate sono un miscuglio buffissimo di guerre, semiguerre, scaramucce, paci, momenti in cui ci si mette d'accordo e ci si mette addirittura a giocare insieme, a fare tornei, eccetera. Cristiani e musulmani non si sono mai odiati con la stessa violenza e durezza con cui i cattolici e gli ugonotti si sono ammazzati nella Francia rinascimentale. Vediamo se ci sono altre curiosità. Io così te la voglio dire, mi permetto, poi veramente vi la faccio andare. Il modello San Francesco, che non è poi il modello francescano perché l'episodio in Marrakesh quando i francescani arrivano e sparano contro Allah e Maometto, insomma finiscono male. Questo modello non è un po' legato al fatto che forse il dialogo è possibile, comunque creare ponti tra Oriente Occidente, Cristianesimo e Islam, sia possibile quando ci sono gli uomini e non le istituzioni in campo. Un po' come è successo con Federico II, lo Stupermundi, la sua crociata diplomatica del 1229 dove forse è andato sia per accontentare il Papa e tacitarlo, sia perché doveva risolvere qualche quesito matematico di questo grande entourage europeo di cui faceva parte. Da una parte, crociata diplomatica, torna a Reggio di Gerusalemme, restituisce Betlemme e Nazareth alla cristianità, ok. Poi però tra il 1222 e il 1933 con i saraceni siciliani è ferocissimo perché lì c'è di mezzo l'istituzione Stato da difendere, quindi una logica diversa. Quando nel 1926 tra Roma e Mosca è avvenuto questo straordinario idillio con scambi di regali, inviti reciproci eccetera, i poveri comunisti italiani sono rimasti di stucco perché sulla stampa fascista si elogiava il regime sovietico, le conquiste del popolo sovietico, eccetera, e nello stesso tempo però il Partito Comunista era fuori legge, Granci stava in galera, è del tutto normale in fondo che si giudichino queste cose con due pesi e due misure a seconda effettivamente del peso che le cose acquistano in ambienti e in circostanze diverse. Il saraceno in battaglia è un nemico però nello stesso tempo i saraceni sono anche quelli che portano l'oro dalla sacca del Niger ai porti del Maghreb e l'oro serve agli europei per riorganizzare la loro bilancia commerciale e addirittura per rovesciarla e quindi in questo caso c'è una grande contiguità e c'è una contiguità che non viene mai perduta. Ancora oggi vediamo come noi sappiamo benissimo che ci sono legami tra i paesi arabi che sono più collegati all'occidente e i gruppi terroristici, ci sono legami addirittura religiosi attraverso la setta wahabita, ma noi tutte queste cose le razionalizziamo, cioè tendiamo a giudicarle con rigore quando ne parliamo a un livello teorico e consapere però che quando passiamo dalla teoria alla pratica un conto è parlare di religione, un conto è parlare di diritti umani e un altro conto è parlare ancora di prezzi del petrolio. E bisogna comporre le tre cose, ordinariamente a livello teorico vincono i diritti umani e a livello pratico vince il prezzo del petrolio, ma questa è una logica di contraddizione alla quale noi siamo talmente abituati che quando la leggiamo sui giornali o la vediamo in televisione ci muoviamo esattamente come pesci nell'acqua, sappiamo benissimo che le cose vanno così. Quando si tratta poi di discuterci sopra allora emergono le contraddizioni che esistono e che bisogna cercare di limare, o si dovrebbe cercare di limare. Quindi grazie di questo affresco di complessità e se non ci sono altre domande chiuderei così la serata, ringraziato tantissimo il professor Cardini, ricordando a voi che domani sera Umberto Gallimberti ci guida nel dialogo verso i nostri pregiudizi, alla luce anche del nuovo volume per Feltrinelli appena uscito che è il dizionario di psicoanalisi, frutto di tantissimi anni di lavoro del professor Gallimberti e speriamo che possiate gradire le nostre primule per contribuire al nostro festival e al nostro futuro. Grazie ancora professor Franco Cardini.